Cos'era? Un pezzo di cipolla Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi vi portiamo al carnevale di Cento Facciamo un vlog super random Era il pezzi di nuovo c'era la cipolla? Si Infatti ci sento buona Quindi vi faremo vedere i bei carri di Cento Io sono di Cento E da quando sono piccolo sono super appassionato del carnevale Molto molto bello Ci sono i carri di carta pesta Quindi i mascherini di carta pesta giganti Ma che carta pesta? Oh, i di carta pesta, cosa pensi? E' la carta pesta? E dentro c'è la struttura, il ferro Ah E beh, grazie E' un scheletro E' tipo come quelle di Giovanni Mucciaccia Che dovevi gonfiare i palloncini Fare la carta pesta intorno Lasciarlo durante la notte E poi scoprire i palloncini E' di carta pesta intorno E' un scheletro E' un scheletro E' un giro E e per la cipolla E' un giro E' un giro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questa edizione del carnevale hanno catturato Kim Jong-un insieme a Donald Trump. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.